Aspettate tutto Ma cosa? Eccola qua, la live col tavolino Che touch Mi manca anche... Che culo, mi manca quello del piramidio Non permettere a Brachion di restare dietro allo scudo per più di 40 secondi Sì, ok, siamo a 9.80 ti ricordo No, poi se vuoi lo facciamo non 9.80 No, a questo ne frega Ok, vediamo bene, perfetto Quando vuoi, Kevin Se mi dà l'emblemino, si è completo tutti, ok Ok, possiamo andare A posto E si va... Avete messo tutto? Sì, posso andare Sì, forse Bene, in realtà non c'erò l'arci per cui... Sì, cazzo Se fosse stato l'olul ci metteva a mezz'ora a settarsi Però vabbè Ci sta Abbiamo già uno spettatore che non so chi è No, non l'ho messo il divinità Io probabilmente Però vabbè Non l'ho messo il divinità, Rip Come non l'hai messo il divinità? Ce l'avevi su prima? Eh, è sgammato Ah, ci hai provato Eh, ci ho provato Per un mondo più pulito Boh Sono in vita Zio Benito Ah, ho capito Mi dissocio Ah, ma siamo in live Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio da queste Considerazioni Qualcuno apre al party a quattro e faccio entrare anche Viva il luce No, no Mi dissocio di nuovo Ma non succede niente Se non si guarda nessuno È ok, però Shhh Vada che è raccomandata da Twitch Ti rimanda Ci arriva a casa la pula Minchia Lascia stare Beh, io bestemmio liberamente Ma stai tranquillo che non bippo Per cui Quindi forse è meglio che Lollo non faccia le competitive Mentre siamo in live Parte il fascismo Parte il fascismo No, aspetta ragazzi, state qui sopra Qui ho fatto una pozza magnificativa Così you do a lot of damage Se arriviamo a 10 spettatori Allora ragazzi qui ci sono soldi in palio Gioinate con i vostri triple account E... L'ho shottato Tu gli hai sparato, Silo? Sì, l'ho sparato anch'io Ok Ok, no, è normale Che cazzo c'è quel Quello di merda Mi ha inventato il colpo, perfetto Mi sa che c'è l'altro a sinistra E c'è il... No, è destra C'è un codiccio quanto brutta gente Occhio che stico in teoria C'ho anche uno dietro i testi Dietro di me? Dov'è quello dietro di me? Quindi non ci sono gli inerestabili o ci sono? No, no, gli inerestabili no Cazzo mi potevo mettere da qua passata Ma io l'ho detto No, non tutte e due insieme No, no Niente Eh, scende Barriera in alto a sinistra Sì, sì, ciao laga E torno sopra Anche tutto a destra Guardiano a destra Orco d'incio Ti ho scopato E' uno dietro, Simo Sti cosi quanto cazzo scopano Facciamo stare Via, via, via Fuga, fuga L'ultima perdizione OP Sì, sì, sfotti i miei impulsi Chi è che c'è sotto che spara? No, vado, ho detto che OP In PvP Qualunque impulsi su Ahia Scopato Fai Fai il barriera a destra Oh No, c'è quella a sinistra No Minchata hanno violentato, Raven Eh, beh, sai come la poste Sistetiva Ah, già Già, giusto Sì, fai il coglione Buonasera Buonasera, buonasera Eccolo Bella mondo di YouTube Tu non sei la scherza È quella sinistra Tu sei l'escluso Ok, non sparavo, la chiedo perdono Invita alla trasmissione che non so cosa sia Eh, te l'ho mandato io Ah, ok Dove ricaricare Nooo Mi sto sparando Non lo vedo più La trasmissione è stata interrotta Non è stata interrotta Cioè, che sta andando Perché non è da Vabbè Allora Gesù è porco Vai E non c'è più colpi Io Quindi Vai E vai Non sono bello Ma Ma Dio Non riesco a buttarlo giù da solo Eeeh 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 E che ha vuoto Io ma Ho salvificato l'anticappata C'è Milotauro e io ho fatto lo scudo C'è il decoro per il Rintrazione, io me lo prendo Come tutto Ottimo, abbiamo preso Lo facciamo col barriere Per il cazzo Eeeh Forse lo one shot Con la pozza amplificativa Guardiano a terra Sì, lo one shot Bella Con la pozza amplificativa C'è qualcuno con le mosse finali per le speciali Ce l'ho io Me le dimentico sempre Che io bastardo E vabbè Ti ha la seconda Scusa Ah già il giocare Eeeh Eeeh E vai E siamo a tre Ci avrebbe un mini countdown Tra i due volte fai team Scusa Una campanellina Ma non lo faccio apposta Spera che faccio un po' di Linguaggio E' un ritrasso involontario Ho l'impressione che ci sia un sovraccarico alla fine Ho l'impressione che siano caduti giù dalla mappa Per non No, spero l'adesso No, intendo i miei colpi che ho creato Ah, Delby, se riesci a colpire i barriere in fondo Se magari sei il cecchino dell'indimità Eh, se non mi sparano addosso Non torni dietro Li vedi anche da qui dietro Ok, lascia, lascia, lascia Faccio 72 ma sballano Dove cazzo, perché ho il pad buggato? Figa Mi spara storte le granate Vabbè da qui Mi servono altre munizioni per caso Oh, fattibile Devo sparare, Simo? Non serve Ok Quella sinistra riesci Oh, aimbot Ti segnalo, Delby, eh L'ho visto Segnala, segnalala Dov'è che hai fatto le speciali? Eccola Ma che cazzo son morto io? Ah, c'è quella merdata che i goblin droppano Tutti quelle pozze di merda E ci sono i danni elementali aumentati Aculeo, parte 2 Sei tu Bassano Ah, Bassano, sei tu No, ho sbagliato No, ho più del Bassano Sei tu, io, parlo È morto, Rip L'avrei fatta io Io ho un colpo di Zalaci Lasciami i goblin qua davanti E ti faccio una mosso speciale Ti lascio Ti libero Simo verrà stuprato Perché assalto difensivo Vabbè Scusa Scusa What? Ti segnalo Mi sono spaccato di capo Lollo, comunque, secondo me, dovevi metterti senza mani Ma quella è sempre equipaggiata Lollo si dissa da solo Tutti i giorni Tutti i giorni Oh, bella la posta amplificativa, ne? Oh, no Muori Orso del Che c'è la merda La torri Sì, è proprio Oh, sti cazzo di cosa Porco cane, quanta gente arriva Ti senti se? Dovevo guardare la roba Allora 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 basta È l'allarci che ci sta disturbando Io faccio la camboarda Doppio Ce n'è un altro a destra di sovvercarico E' questo qua davanti Raga, raga Ma qua non vedo niente, non vedo niente Eh, cosa fai? Abbiamo l'altro dietro, non vedo niente Ah, ma dov'è? È lì dietro, lì, lì, lì Dove? Lì A posto, easy Io me le vado, la la tiazza ti dice tra poco, eh Sono davanti a Hippopotanos Cosa, scusami Scusami Ciao Hippopotanos Ho fatto da screener 80.000 punti Già Nooo Tristezza E vabbè E vabbè Infatti Mi piace fare una mossa vitale Adesso sono periodi speciali E diti sarà E' andato e via Ma l'ho non ci sta aspettando Uffo No, l'ho L'ho già sto farmando Ma cosa? E' andato Top player Non ci sono I goblin normali Che strano Non riuscirò mai a chiamarti mister Ah no, qua davanti ci sono due sovraccarichi Beh, mi do, le basta Che arriva Se... Non c'è dentro Perco di... Perco di... Nei lazze Eddito Edditi Edditi Verrebbero essercene due Mi ricordo che ce n'erano due Ho spawnato Forse spawn adesso Ah, oh, l'esercito sta arrivando Sì, sì, è spawnato Eccolo lì Non lo vedo E' appena rai Prima... E' morto, è morto, è morto Sì, ho sparato, l'ho visto Uno da me Dietro, raga Dietro di voi, giratevi No, ce la puzza sbagliata Ah no, l'one shot così Invece no Di che c'è? Lidra Spostati quella... Munizioni speciali al centro Ross? Il cubo di merda, davvero? Vaffanculo No, avevo un'arpia dietro al culo che mi... Lasserava i Tarzanelli del culo No, allora, calmiamoci I Tarzanelli ti massacrava Sì Interessante Me la kiwi Allora, la piantiamo Scusate Qualcuno verrà segnalato Di ripetute volte No, no Eh 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 Magari sarei fuori La sospona tutto Io tornerai dietro Poca roba, ma non è Asher non riesce a capire dove ti trovi Se cade la linea è perché sta imprecando e ha rotto il suo microfono Guarda che ho sentito l'isgraziata Dai, gira lo scudo No 253m Lui è su io e io no Luis è su io e io no Ho fatto una battuta alla puttana Ciao, sono Luis Guarda che ho distrazione che io voglio dai laser Invece no Invece voglio dal Robin Faccio delle speciali che servono Vabbè non servono, sono pieno Bene di notte lo Robin Sì Credo di sì Nokia che mi ha bloccato Io rovero Un titano con la sua possenza mi ha bloccato Nooooo Sto recuperando Easy, nel laser Bella rara Dalla mia visuale dei beccati tutti Ma vabbè Perché vediamo due cose diverse Quando io posso andare tu l'uomo Good game Destiny Calibrazione degli impulsi Oh santo Oh santo Dio quante... Sì cos'è? Madonna C'è il Milotauro che pusha, pusha C'è il Plagia Mente, il Plagia Mente Ah la pull Oh che ciclopi Faccio quella a destra Ho fatto i due Head Goblin sopra Prova a fare ciclopi a sinistra Ho cercato ad arco Lascia quello lì, ci dà Neanche i mille punti Mi sa che ha ricercato però ci pusha Vorrei dirlo Però no quello lì se ne va, non ci pusha C'è un Milotauro di sotto Fatto Occhio si Occhio delpi No perché pusha ha ricercato? Perché pusha? Adesso ti faccio lo scudo e non pusha più Sì sì tranquillo Questo qua pusha lo stesso Questa è Froce Posso tornare indietro? No 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 la pozzina del Goblin mi ha ucciso Ah c'è il sovraccarico Questo qua si leva o no? Vabbia parola delmi Adesso pusha il sovraccarico Cazzo c'è il sovraccarico Puttana di quella vacca Eh ho dietro il Ricercato O lo uccidiamo sto stronzo Ma mi hanno soprato i due Milotauri lì Cazzo Io non c'ho colpi Ora che l'ho buttato giù regà questo qua No Non ci credo dai che sfiga E' ricercato E' scappato ma non ci credo Fido di merda e' ricercato quello Cristo Ricercato di merda Ok non pushate lasciatelo lì che Ma nessuno l'ha pushato Ha pushato lui Froccio di merda C'è 40 mila punti ci ha tolto Tanto ce li facciamo Il mio tavolo che cusce Ciclope a destra Vabbè sono morto tirando la ulti Vabbè la lì La mia ulti E non mi da scudo Ciclope a destra e' Cosa e' successo perchè qualcosa non e' morto Anche la mia mira che schifo Sto guardando Vai Simo Dio Ma perchè non è tro... Ok adesso è entrato in colpi Bella quanti colpi abbiamo sprecato GG Ah Gesù E' morto quello che ha fatto No diciamo che lo piazziamo dopo No vabbè ci sembra una pozza sbagliata Che io ho sempre paura che arrivi qualche stronzo E non mi hai ricercato a rompere i coglioni No e' la dietro che sta chillando l'ho visto Guarda e' la dietro e' chill Eh forse arriva Orca puttana arriva No sta per scappare Sta per scappare Meno mare Adesso si va Reciquitta Occhio che qui spawnano i sovraccarichi No vabbè di goblin sotto Gli goblin Vabbè Ci serve delpi perchè ci sono i sovraccarichi Vai Facciamo quello lì di destra va Aspetta Lo vedo Lo sparare sigo Puscia uno davanti a te delpi Sovraccarichi Ah Uccidito Quello di sinistra Non lo vedo E gli devi sparare anche tu sino questo Ok Uno davanti delpi sempre davanti Alla tua sinistra Sta pushando Ok Ok ho finito le speciali Vieni qua sotto ci sono dei goblin profan Te ne ho una Fatta Ah c'erano già quelle speciali No mi sa che ne hai fatte tu No sono quelle che hai fatto Si Bella raga Sono povero No Ok sono pieno di pulizia Vabbè è il minotauro Dov'è il minotauro Ma è ancora qua il campione Ah no pensavo fosse il campione No il minotauro è normale Oh heavy Io sono pieno di speciali adesso Io sono full anch'io Proviamoci tra il boss Non lo so se volete si Ci proviamo In caso di schiavo Potevo non sparare Ma io l'ho sparato Tanto è pieno ancora qui Dov'è prendere altre speciali Siamo passati attraverso il portale Ora ci troviamo davanti a un burrone senza fondo Cosa? Non ci sono burroni Sono le coste frastagliate di un lago radiolare Non è come una delle storielle di Asher sul piramidion I have well of radiance Attenzione Cosa ci fa un goblin qui sotto? Penso perchè Delby abbia sparato alla gente sopra Tu c'hai la bolla Delby? Si Metti la dietro e vediamo di fare guardarla Ok Caricchiamo Bella pari luna Facciamo la naviga Dov'è il critico? Easy, continua a sparare No, non sparati più no? No 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 si fermo fermo Facciamo di nulla che Prima che si glitch Eh infatti prima che si glitch ci incula Quindi veramente ci sarà un sovraccarico dopo Si sicuro C'è folla quindi è probabile Uno di quei minotauri che spawnano dopo sarà sicuramente sovraccarico Che morto C'è dietro lo scudo e mi ha ucciso il boss Cazzo c'è la pozza del No c'è un Un cicrepo qui C'era ancora con la pozza davvero? Quanto cazzo durano quelle cose per terra? C'è ancora? Madonna Penso dai se ho dovuto ti pegare per non farmi sparare da questo Il T-Bank Strip Sono morto No è scarso Meno male Bella French Mi devo prendere le sfere No il goblin E adesso magari c'è un No mi sa che al boss hanno imparato di non mettere torcuschi Poi con questo che Porca troia quanto ma... Vabbè mi ha preso in volo Occhio che è pieno di pozze di merda Occhio Kevin che sei pieno dietro E ho lanciato la grattata da qua C'è una pozza scagliata Ah si massacro Delpy Vai Delpy C'è la... Radianza dietro Diretti che le trasforma Ancora Allora Vespero raggiato Spina del giovane ancora Delpy casco di save Ha vuoto Te lo dico io che ha vuoto Vai Delpy Ce l'ho già vuoto Ah bella Bella lì La cassa ha droppato dei pesanti Dimmi che mi ha dato il patto e non il... Ah no non ce l'avevo vuoto Dio Eh Quello che hai trovato? Ah Darko Caccia l'incubo? Anche quello che ho da Darko Sì Per vedere cosa che mi manca quello che è sullo stregone Mi mancano gli stivali Sì Bella per lo stregone Ma il mio armamento di punto che fino ho fatto? Beh infatti anche il mio dov'è? Vabbè Game Are you here? Verifichiamo subito se è dalla mia amministratrice Scolas Orgoglio Come si chiama quella di Tanix? L'ha detto un secondo Solitudine Ok l'una Un po' Solitudine l'ho fatta Perfetto Orgoglio mi manca Sì Quella di Tanix Perfetto Ti manca Tormento e Follia Ok Tormento Follia Chi è Follia? Al Fanatico Bella per il Fanatico Bella per il Fanatico Va bene Scola Lo scola pasta Via Qua ci sono gli inarrestabili comunque Quindi Ornamento del Colonia Vabbè posso andare subito O l'avete dato? È solo pronto Delpy Vado Delpy È morto Perfetto Dopey Aspettiamo Cioè le spine me le ha troppate Ma dai ma me le ha troppate Ah beh da vuoto Sì Quanto inter... Mi dicchi? Possiamo andare? Vestime me Vestime me A posto andavo Invece lei cos'è che fa botta pedali? 3 yarderai in comp Da mutato No va Mica vado a fare comp Si ha provato a farli in solo Non ce la faccio Sono troppo scarso Sono troppo bot Non manca poco per il level 5 del clan Quelle belse Ragazzi giornate Ushira Tensei No 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 Di nato cerchiamo Pro player No blueberries Please Monday ground berries Questa qua sta Esplorando i corridoi del tempo What? Abbiamo Kevin No no no, aspetta 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 che devo guardare una cosa Questa esotica Esplorando i corridoi del tempo Infatti cos'è che è? questa esotica attenzione potrebbe vabbè dopo vado da Osiride sì anch'io nel dubbio non si sa mai io ci sto già andando dimmi sa qualcosa non lo sente esotico va subito il problema è che non è neanche parte 2 o parte 1 è proprio corrida del tempo e basta Pietro Cannella proprio lui ah proprio lui lo conosco perfetto Pietro Cannella indistruttibile non lo bullizzare erentil acqua passata in monocchio ah bella shit ah lo sto usando anche adesso bella bertia hashtag abbassiamo l'erentil hashtag perché la shit usa ancora in monocchio che tanto è baciato lo sto giocando anche la storia è l'unico pezzo del titano utilizzabile io vado a stream sniperare la gente bravo bravo anche questo lo sto facendo non fa questa ha scritto oh 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 l'abbiamo detto l'abbiamo detto noi eh prima oh 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 subito in live dimmi cosa che c'ha Osiride lollo quando a terra occhio che c'è il barriera non busciare troppo c'è ancora una posta amplificativa non fare barriera no non servono a niente quelli lasciamo dobbiamo fare solo la sfida si dobbiamo fare solo i link le stiletti là davanti è la del non mi entra neanche il danno sta morendo da solo con lo stiletto cioè l'una è più gittata qui sono due gli stiletti occhio a pusciare vedessi l'altro uno è là in cima ok l'altro era già morto l'altro era già morto penso da tutti i nemici che ci sono Delpy è un pazzo con la storia mica che pazzo guarda è bella che ha funzionato ci voglio io invece no invece neanche io strano ma vero no ok non c'è il rata come sempre d'altronde ah comunque il modificatore è empatia, rata potenziato e scarti il rata delle disabilità che belli questi perk molto simpa Pagni si impegna a fare i perk simili facciamo sempre l'incubi per primo a tua sinistra delpy c'ho lì per me che mi shottano faccio la vai clip via, speedrun occhio che ci sono un paio di inarrestabili qui davanti ah si lì sotto dove c'era una volta ridimenti ehm si vai stanna no ne uccide, mi ha laserato uno l'abbiamo ucciso io di one shot anche questi in realtà ho sparato anche io non vorrei dire però vai vai divina si one shot anche tu quindi vai 9.84 ladies è il my gentleman facciamo solo l'incubi qua sotto ci sono tutti i tre qua sotto credo lì sti cazzo marrona sono vencentissimo no c'è il vandolo a destra invisibile vandolo a destra invisibile fa gente c'è la cura davanti non vedo lì è questo infatti ci sono detto che il misil c'è il reglietto qua davanti raga il reglietto qua davanti mi sono trovato le risate dove è il reglietto mi sembra che era 7 minuti scolos ah beh la posta amplificativa sicuramente non aiuta beh è sempre la well però eh intanto c'è lo scottino eh eccola qua imprese esplorando i corridoi del tempo uff dai mi avevo dimenticato di com'è vieni da noi delfi occhio che ti può sparare lo stesso ma farà fatica corridoi del tempo esplorati io non ho speciali neanche io ce li ho sono tutti sopra di noi i reglietti e la gang andiamo su eh non sono più sopra spoiler infatti sono appena scesi davanti a derby che è un maniaco e non è neanche morto è salita sopra la gente brutta comunque vabbè c'ho la radianza che metto sopra sopra ho fatto delle delle munizioni ottimo che castolare? io ce l'ho io vai quando lo vedete sperano di poter dare il tempo vai oh no lo potevo farciottare degli easy ho messo anche io i spezza incubi supremo quindi dovrei riuscire a fare gli scudi ok eccolo link qua quando vuoi metti la bolla dentro sei minuti qui finisce la roba non ho munizioni speciali aspetta sparargli aspettate mettate qua un attimo dentro che mi faccio ok spariti pure no dai uccidetelo no no non ho munizioni raga era non avevo munizioni sennò le ho rifatte sono tutte e due qua sono tutte e due qua c'è un veglietto a sinistra morto questo mi uccide vai e c'è lo scudo lo scudo dov'è vieni qua bella scuola bella lì per scuola tranquilli no le arli tranquillità anche a me bella per Kevin io l'automatico quindi c'è un tiro di apertura c'è un'impresa quindi sui corridoi del tempo io direi di andarci subito vai dall'uomo in persona ad elpi l'inutilità incarnata osiris io mi metto il lumino osisis what stiamo ancora in live mi dissocio mi dissocio viva l'america sono tutti aperti no non dimmi che c'è qualcosa da trovare in mezzo a quello casino là ti prego sono tutti aperti i corridoi eh ci sarà qualche merdata da trovare no 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 c'è è andato via let's go è tornato saint volendo roba vecchia torna il ghialla no io io preferirei un bello compigliaccio un'arma che si addice a un titano come saint un'arma che spara piccioni facciamo conto il bastian com'è secondario o primario? primario il primo fucile a fusione primario un applauso ah è un fusione quel coso? orca puttana c'è anche tutta la quest quindi prima del 28 fatevi 10 toglie dal ragno ok ma perchè? ma che cosa sta su? ma sono più... e poi... dai la sparo secondo me ho rompi ghiaccio mitoclasta secondo me è il soffio del drago mitoclasta un'altra stanza dai ne sono convinto vex sei il tuo uccisore di vex tutta quella bella bella mitoclasta secondo me è una terzia area però perchè voi in stasera non ci sono terzia niente per me è tipo un bella raga ciao e da questa che ha si fa probably però ci speriamo nuova quest no il giorno ha sbagliato il titolo nuova quest a scritto bella per giorno eh ah mi sa che è un puzzle perchè il giorno io lo vedo che sta perdendo qualche cellula nel suo cervello aia se me c'è qualcosa da trovare nei corridoi del tempo puzzle no però eh mangi lo cominciamo cominciamo mangi per favore perchè marchiamo male qua già mi ricordo di guardare la gente che faceva in live il puzzle del pandemia quello dei monitor eh esplorando i corridoi del tempo corridoi del tempo esplorati aspetta che devo ancora shoppare la missione devo comprare un nuovo a play non carica più questa ho livellato space magic cara io ho questa io ho la zoom ah non devono anche prenderla è già lì ah beh io l'ho comprata da lui vai a prenderla allora aspetta aspetta iniziare da elby stasera io l'ho strumento il capitale ok è anche forse veniamo un po' come perchè ho visto che la taglia ha un segno sono i luoghi nei corridoi del tempo che non hai ancora visitato un guanchissimo e qua ah nuovo obiettivo entro nei corridoi del tempo fin qua direi che è un obiettivo tranquillo a me piace voi e poi ci sono io no però sto andando totalmente a casa eh l'olio intanto tu lo fai tutto giusto a caso arrivo al mondo e qua di qua sicuro 100 a 100 ah non mi sente neri di te ma da quant'è che non sento l'olio io la sento eh cos'è sto bordero ripuliamo e pensiamo un attimo cosa fare ripuliamo qua e pensiamo cosa fare perchè questo è spilora per corridoi per scoprire i loro segreti c'è qualcosa ok perfetto fin qua ok qui c'è il simbolo strano ah si no siamo in tre uno che va a sinistra uno che va a destra uno che va in centro onesto si si onesto io vado a sinistra ce ne sono quattro di corridoi eh cazzo no uno è da quello da cui siamo finito che raga ci troviamo no ce ne sono cinque allora no lo entra un po' vabbè io prendo io vado di qua mi sono andato a questo non posso non posso passare io ok allora non è quello bella raga neanche io posso passare da questo e allora e te Kevin? no quello lì è da dove sei arrivato Kevin no è l'altro è quello col simbolo rosso questo è il simbolo questi simboli qua però li ho già visti io sinceramente ah sono quelli degli obelischi si sta roba qua è quella degli obelischi si deve essere la tua delpi quella che collega sulla torre no no Kevin allora c'è un puzzle qui da fare non è che saranno sti laser del cazzo si dispare eh infatti non si possono spaccare si non puoi passare si c'ha qualcosa da fare lì non fa neanche danno oh che danno che fa non fa neanche danno questo è da quello da cui siamo venuti le avevo viste tutte allora questi simboli qua no qua non si passano da qua questi qui sono i simboli che compaiono sugli obelischi sulla torre quando colleghi i cosi c'è questo laser qui per terra se guardate se sparo i laser succede qualcosa prova a spararli con le armi del io c'ho il giudice del viaggiatore c'è la meridiana eh non è della meridiana guardate che guardo qualcuno in live intanto voi provate quello delle armi con qualche con la simmetria magari boh la butto lì intanto per buttare idee provo con la simmetria ho visto che ce l'ho già qua questo è un'esercizio non c'è ancora dentro del questo simbolo con la simmetria caricata magari vedo un po' non cambia niente no gli sparo ma se guardi hanno un senso questi laser cioè non sono messi allora goblin discendente goblin precursore c'è un triangolo in mid perché comunque non ci sono tutti i tipi di vex manca sempre un tipo ma scusa ma non posso cioè non è che per caso devi puoi entrare in quella punto solo se hai quell'arma o magari una roba del genere non lo so quell'arma della meridiana tipo ma ogni cosa ne ha una sola di quelle 9 di armi ogni obelisco ne ha 2 cioè di quelle 9 non dico di quelle revolcate dove si ha can... alcuni 2 alcuni 1 quel da arriva con torta c'ha l'automatico e l'arma lassù ah c'è vero si uno ha il fusione allora qui non... uno ha qualcos'altro a ricognizione è il fusione a ricognizione e poi c'è il lanciagranate questi simboli non me li ricordo la prima volta che siamo venuti poi c'è il... fusione lineare questa mi sta tanto di quest con un'arma comunque eh non so come ma... mi trovasse? sto guardando in giro se c'è qualcosa ma... poi li sto riprovando tutti intanto infatti glad è arrivato in live oh raga da me si è aperto oh o forse è l'entrata no è l'entrata bella raga bella raga c'è illuso mi ha bettato anche a me a me lo credo sia l'entrata si mille voci no mille voci è la risposta le armi non c'entrano un cazzo secondo me boh io ho provato a dire un'idea anche perchè sinceramente non... no ma ho provato anche che cazzo ne so non saprei mettiti l'elmo di saint che cazzo ne so no no perchè questo mi dà che è sbagliato però qua c'è solo un minotauro ma guarda che cosa è possibile che c'entrano questi lancer boh probably solo che se non capisco se non capiamo che neanche come si spostano sti cosi dandoli il pugno no prova ma non credo qua c'era davanti la... l'arpietta qua ce n'è un'altra io mi metto la bolla e li blocco il lancer qua ce n'è un'altra ok questo è riuscito ad andare avanti non so come come? che c'è fatto? so è stato a caso in centro si è girato e gli ho spolato un mio amico ok cosa è successo a questo? perchè io vedo un aura intorno a questo? perchè ho messo la bolla ah ah hello there jajaja voglio andare a fare o i laser non c'entrano un cazzo probabil ma se tipo proviamo ad andare tutti e tre in una strada e vedersi si apre perchè magari abbiamo messo tutti e tre lì non lo so butto lì venite un attimo da me intanto ah bella raga bella raga beh però abbiamo una bella fantasia qualsiasi stagione? day one ce l'avete fatta? non siamo riusciti a passare la prima stanza però vabbè perchè ne eravamo in 3 siccome non sapevamo che bisognava andare tutti e tre per attivare un po' aspetta che segno vi è capitato davanti al alla porta da cui siete usciti ehhh non posso più uscire perchè le altre sono andate avanti non lo so adesso te lo dirò e qua non ci sono i laser però c'è un idraboss eh idraboss eh anch'io sono l'idraboss due idraboss è la quinta è la quinta idraboss che è solo il nemico di una stanza per me questo qua ci fa a fare un cerchio ma zio prendo e prendo questo mi ricorda molto c'è tu delby un enigma di pokemon no però ho notato una cosa uccidendo questi lord goblin di la era diverso era diverso qua si va al passato di qua c'è il passato raga di qua ma quali sono? cosa significano i simboli? cioè hanno un significato? i simboli sono quelli che ti compaiono ad esempio sulla torre quando colleghi gli obelischi cioè sono quelli che tipo gli ologrammi che ci sono sull'obelisco della torre sono quelli lì no ma nel senso il hanno a che fare con la season e qua che cacchio che cacchio stavo tornando io so perchè avevo l'impressione che siamo tornati indietro no qui non mi sembra che ci siano già stati no qua no qua è vuoto non c'è nessuno c'è un albero gigante anzi non mi ricordo quest'albero l'avevo visto la quale c'era in un trailer c'era idea musica questa è che è io salgo sull'albero non so perchè ma anche perchè ci fanno salire fino qua in alto qua sopra l'albero c'è qualcosa aia sono caduto giù figa del dio ma infame sta pianta eh no non c'è niente strano per il fattore che però è tutta fisica e ci fanno anche salire e non c'è un cazzo anzi c'ho l'albero ho fatto l'uscita dove c'è l'albero questo quale mai c'è l'alberello bassi ciccione come lo seguiamo agli alberi andiamo ancora che Kevin fosse ragione visto nel trailer facendo un collegamento da qui ci siamo già stati però non c'erano i nemici vabbè non lo so ok e sto giro ci sono delle arpie a caso no girano i nemici girano i nemici girano le stanze se lo sbagli e da più o meno quando state finendo la caccia all'interno che sta girando le stanze ma che cazzo vabbè bella gioco bagliata ah quindi se non sono i nemici lo stiamo facendo bene stavamo facendo bene fino a prima allora torniamo indietro e proviamo un'altra uscita o magari stiamo facendo bene perché ci sono i nemici ma i simole mi sembrano diverso comunque ogni tanto cambiano cambiano posto ogni volta niente poi io prendo questo sinceramente andiamo a caso ragazzo ah eccoli qua qualcuno ha scritto i simboli allora cerca c'è un più qui da qualche parte qualcosa che assomiglia un più si si una croce tipo il mio uomo questo che era scritto per questo si guardano gli streamer poi devo cercare qualcosa tipo un serpente c'è una c'è una c'è una combinazione sarà nella combinazione di simboli della un'ora quello che compagno la ciotola il serpente di qua che vieni qua ok non c'è l'idea anche sinceramente clover è trifoglio tipo qualcosa del genere ehm cerco cerco qualcosa che assomiglia un chat glover che cos'è visto che c'è un mio compagno vale se c'è un trifoglio sarà quello proprio si c'è è a sinistra trifoglio? lollo tu che sai tutto clover è trifoglio scritto clover pianta tre foglie potrebbe essere poi c'è interlocking hexagons questo interlocking hexagons quinto cos'è? ancora serpente mi sa che mi sa che è questo no ma c'è serpente porca troia interlocking hexagons cos'è? esagoni esagoni esagono sei lati forse eccolo qui è quello a destra aspettatemi che sono indietro ok si è questo si sarà quello lì con i due simboli qua strani ci due esagoni che si incrociano poi ancora serpente non ci saremmo mai arrivati ragazzi ma va ma per quale motivo logico bisognerebbe fare una roba del g e poi serpente che è di qua questa testa non è vero se questo ha scritto una roba a casa e poi dopo il serpente? il più il più e guarda dove siamo arrivati il più a sinistra ma quando eravamo andati di qua prima? ma quando eravamo andati di qua prima? per me ci fa fare un giro diamante no aspetta si il diamante con tre piante cos'è? si il diamante con tre funghi funghi il diamante con tre funghi funghi no che cazzo si il quadrato rovesciato quello non è un quadrato e poi dopo il quello debba essere finito bene non è finito poi invece si ne usi ne andare che vede io qui non ho capito questo sicuro c'è qualcuno che cerca un attimo clover perchè ho l'impressione che non è trifoglio anche secondo me per me è questo quello che intenderò ok google cosa significa clover in inglese? trifoglio boh andiamo di qua se non è questo qua raga no devo ripeterlo tutto e non posso rianimarlo lo farmo lo farmo con i laser se ricominciamo la sequenza che almeno è meglio io provo ad andare tipo andiamo di qua aspetta dobbiamo aspettare i delpi se no no riniziamo i delpi e kevin da l'inizio non abbiamo mai fatto quel calderone lì mi sa che ha indicato da dove siamo aspetta che devo io continuo a guardare in live un attimo è una pubblicità è una pubblicità è un quadrato con tre cosi dentro quello lì sarà questo qua kevin è un rombo è un rombo con tre cosi dentro tre steli con dei degli archi di cerchio qual'è il trifoglio? è quello è la x simbolo del è quello lì che viene quello lì quadrifoglio è un quadrifoglio quello lì vabbè allora si rifata all'inizio quindi il più è il più però vai piano che lo sto facendo anch'io qua si la informa eh ue fate che devo fare lo screen della live questo qua è un mod e ha scritto il codice quindi immagino che sappia poi il più aspetta il serpente il serpente sinistra e non sono spawnati i nemici quindi questo significa che è giusto a noi si però sti cazzi il serpente poi con calma l'olio poi il trifoglio mmm che è un quadrifoglio però vabbè che è a sinistra sempre ma io anche prima avevo fatto il quadrifoglio al posto del trifoglio eh vabbè rifacciamolo poi gli esaguri anticappati ah e due ok che è sempre a sinistra stiamo andando sempre a sinistra comunque ecco perché uno aveva detto di andare in senso orario sempre ecco perché sempre a sinistra il prossimo sarà il serpente immagino sia a sinistra anche questo vediamo no non è a sinistra fammi sicuro è un serpente oh and avanti dritto 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 cos'è che sta succedendo cos'è che sta succedendo guardate no raga guardate un attimo qui cos'è 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 raga 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 vabbè no andate avanti no 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 vi devo mandare il video di quello che sta succedendo no 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 musichetta quindi cosa che abbiamo fatto esagoni e il serpente adesso e più 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 si era detto di noi no che cosa ho fatto io adesso no 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 mi si è buggata la missione non ho più i simboli e poi c'è il diamante e poi c'è il diamante che è quello con i tre cosi e c'è dentro questo è il famoso albero di prima se non funziona dobbiamo risettare la cosa probabilmente esatto perchè? qua ci sono dei nemici ma non proviamo a ucciderli ma ci sono dei nemici ma in teoria devo fare la crit di quello che devo fare la crit di quello che mi è successo non ha capito si dopo questo era finito no si esce li si esce li si a lui è finito su cos'è che è? spoiler perchè cazzo ci ha portato in orbita gioco di merda arrivo subito io guardo glad adesso vediamo che avrà già fatto probabilmente va va è appena è appena iniziato il live appena iniziato la missione la preglade ah no vabbè c'è uno 604 ah quelli dicono che cambia ogni ora santo cielo noo è un'altra di quelle cagate lì puttana di quella vacca come per quella puttanata dell'umina ok vabbè spoiler è bella raga cos'è? non posso dirtelo cambia ogni ora no è riguardo la missione questo qui l'ha già finito tutto è andato un po' avanti ha addorppato qualcosa o non c'è niente? no non è ancora finito ancora qui c'è un simbolo sotto il pavimento poi ecchi me ok 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 io avvio però dovrei cadere a maggiore per poco uno è alleati se vieni qua e ripetermeli un attimino perché no perché si cambiano ogni ora ah lol subito subito adesso ma sta rimando non è che si ride magari no non ha qua nient'altro c'era il telefono sotto bar o lol si è qua facciamo una cosa veloce vediamo lì allora le giri ad alta voce intanto prova a cercare prima era il più giusto lol aspetta eh mi sta caricando la foto adesso io provo a uccidere tutto lo si sta male proviamo a chillare tutto si allora lasciami arrivare anche a me così le faccio anch'io intanto quindi il primo era il più se non benvenuto non più non dovremmo andare non vorrei che ci sia da chillare tutti eh infatti non è ben chillato adesso ma io ci metto un attimino perché ok poi c'era il serpente che a sinistra come era prima giusto lol si si aspetta che facciamo i ciclopini andiamo al serpente hai ah allora il primo era il più se non funziona dopo vado a vedere su read the secrets eh dopo c'era qua non ci siamo mai stati si si prima ci siamo stati qua si cos'è che c'era dopo? clover ah il trifold cosa dico dopo i serpenti trifoldi che è il quadrifold poi vabbè di qua vai riperotti ah glad è ritornato in orbita quindi mi sa che l'ha sbagliato ok poi aspetta io cosa ho fatto io ho fatto il più quindi adesso devo fare il serpente aspetta prendo io l'immagine però poi il clover c'è l'interlocking hexagon falla per loro che sono che sono ehm esagoni si no no stavo guardando sinistro sono sinistro ma nero dove ah no noi arriviamo sempre dove c'è quel calderone rosso si ok 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 altri nemici non ho space magic non ho space magic serpenti che sono facciamo prima qualcosa ok è di qua dopo i serpenti cosa c'è Kevin? il diavante no c'è il più e poi c'è il diavante ok il più ok qua si più che destra diciamo prima tutti i nemici brutti ok e poi il diamante che in questo caso è a sinistra no è a destra di qui c'è la Cyclops game c'è altri nemici non sembrerebbe andiamo dopo questo non c'era nient'altro no vediamo ma secondo me è ben cannato ma che secondo me oh no no devi solo iniziare a tagliare tutto è giusto la combinazione quella che ti ho mandato cos'è? non spoiler eh guardate guardate sotto raga oh punti di domanda che cazzo mi avete trasportato anche beh si mi ha dato un pezzo di storia anche a me parte 1 un altro pass non ci credo davvero che palle no? no immagino aspettate che faccio lo screenshot mentre guardo sotto non si può passare c'è qualcosa in mezzo che ci blocca aspetta devo fare lo screenshot qui sotto cioè ti tippa indietro aspetta c'è qualcosa da fare ma porco dio no perché perché io non sono ancora arrivato guardiano a terra no ti tippa indietro ah no si vedi che ti tippa indietro ah beh no io sono c'è una sorta di barriera di difesa non so ah ok c'è il simbolo sul pavimento tutta sta roba qua ma quella è tipo una tomba la tomba non l'ha poi toccata ma sopra un simbolo dell'avanguardia che sia Cade è Cade no raga raga gli spoiler c'è un simbolo dell'avanguardia ma sì non è detto che potrebbe essere Cade voglio vederlo anch'io Cade non aveva una spada dov'è Plath qua spada dove l'avete spada ah c'è una spada sopra la tomba guarda sopra la tomba sembra una spada comunque non possiamo toccare quella roba sì sì è una spada chiaramente aspetta che torno in live da questo vado a mangiare in maniera speedrun torno subito poi cos'è che c'era diamante con tre cose dov'è qua 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 non è che non c'è niente qui c'è cosa che dovrei fare ho deposito perduto nel te oh dove c'è qualcosa qui intorno c'è qualcosa ma mi sembra no di no no raga no 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 cioè intorno non c'è c'è quella cosa sul pavimento no no non dirmi che devo rifare tutto il puzzle in che senso se hai sbagliato un simbolo si no ci sono arrivato ah no deposito perduto nel tempo l'ho rifatto però mi hanno riportato indietro appena appena mi sono avvicinato troppo mi hanno riportato indietro e invece se torniamo indietro di qua devi c'è niente però mi sono messo i zannacchi no non c'è niente no aspetta un attimo ripetimi ripetimi la la consecu dei simboli ok c'è una spada e uno spettro sopra la tomba no o non è uno spettro non è uno spettro oh cade che spettro aveva guardiano a terra perché mi fa tornare indietro appena mi avvicina troppo mi fa tornare indietro anche a noi si si spada e spettro però posso accederci ah secondo me non è cade di nuovo dov'è che si vede la spada dello spettro abbiamo fatto vedere i miei raid secrets mi fa tornare indietro i miei raid i miei raid i miei raid l' celular l' i steht Magari c'è scritto qualcosa Nel pezzo di lore Che abbiamo appena preso Immagino Come si chiama Il piccione E la fenice Un motore solitario Nella tranquillità artificiale Della zona morta Mantenendo il traballante Delario di metallo Dentro la linea grigia Del prepuscolo La porta aerei Vola tra i picchi montani Che perforano le nuvole A bassa quota Tagliandoli in strati Ok E Kevin Quanti sono i simboli Che abbiamo usato Per teletrasportarci qua Me li conti? Eh no Non c'è la sequenza Che abbiamo appena usato Solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chi è Marinoru? Che iniziavi da serpente No lo iniziavi dal più La vicetazione è troppo bassa Per atterrare Lei ci sarà Perché guarda qua sotto Sembrano tanti codici Ah facendo Ah ci sono tanti Serpente Ci sono tanti codici diversi Vedi quello dritto da noi È il nostro Che abbiamo usato Sì Quello dritto L'abbiamo fatto Comunque abbiamo finito Cioè Devo tornare in orbita Ci sono tanti codici diversi Il problema è che sì Ma caposquadra è Giusto Eh sì Quello davanti a noi È il primo simbolo Che abbiamo fatto No Sì Domani e dopodomani È il giorno dopo ancora Finché non perdono Averci l'armatura Marin si drizza Scrutando un punto Adesso la vicetazione Non viene legato E la peggio una luce Fratello Seint Gli ha trovati Signore della guerra Parla di un certo Signore della guerra Nella lore Non spettare bianco Ma si vede lo spettro? Screenshotiamo il pavimento Poi mi mandi lo screen Per Delpy C'è qualcosa che è Tipo Prova a guardare un attimo Delpy Se c'è qualcosa Tipo Doppio esagono Aspetta Scusa Doppio Quadrifoglio Aspetta Doppio quadrifoglio Non c'è niente No Doppio quadrifoglio Non c'è niente No No Doppio quadrifoglio No Non c'è nessun Doppio quadrifoglio Però guarda bene La 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 cosa Guarda Il quadrifoglio Il quadrifoglio centrale Il bordo Si apre soltanto Su una sequenza Su tutte le altre sequenze È sbarrata Il contorno Si apre soltanto Su una sequenza Allora Puoi provare A fare la vittima Tornare un attimo In orbita Perché c'è un codice Da farti provare Io non posso Mi fai provare Fammi Riesci a farmi Quale vuoi farmi provare Quadrifoglio No Quelli sotto No Quelli su Reddit Quindi sicuramente Questo funziona Ok Poi Ti mando uno screen Ti faccio Voglio che Tu mi Ho guardato una cosa Nei trionfi Mi detti Qualcuna Un codice Da come nuovo libro Delle leggende E ce ne son 19 Per completare I corridoi del tempo Vabbè dimmi Rollo quando Ti lo vedo Poi mi detti Questa Dimmi se riesci a leggere Ti dubito Che questi qua Qui sotto Servano a qualcosa Solo per No Secondo me Sì Secondo me Perché È troppo strano Vabbè sono messi a casa Secondo me No Se c'è il nostro Che abbiamo appena fatto Giusto No No non c'è Non c'è il nostro Appunto Non c'è il nostro Ma Il nostro infatti Non ci fa toccare la tomba Ce la fa solo guardare Perché appena ti avvicini Ti fa tornare indietro Secondo me Ogni Ogni reset Oppure ogni ora L'apertura di quell'esagolo Gira E quindi cambia Il codice Che devi fare Tra quelli che ci sono lì Secondo me E si capisce In base all'apertura Perché troppo Sanno che ci sia Solo un codice Con l'apertura Hai risolto qualcosa? Sì Io ne ho trovato un altro Torno in orbita Sì Ah Sì Qui non puoi fare niente Io ci sono quasi Dai Che Mi pulisco E Dimmi il codice Ah sì No tu fai quello che vuoi fare E se fosse Uldren 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 è già rivissuto Eh ma Eh lo so Però Boh Non so Io parlo O è Cade No Se segui la lore Uldren è vivo Ed è un guardiano Sì lo so che è vivo Ed è un guardiano Però Boh magari È una sua tomba Che è messa lì Nel pezzo di lore Che ci ha dato Che ha dato Quando abbiamo completato Si parla di un signore Della guerra ignoto E un dialogo Tra tre Tra saint E altri due Vuoi qualche ex mentore Della vanguardia Morto Chi c'è di famoso Ancora Oltra saint Sì ma chi può essere Che ha Che ha Questi contatti Con Con osiride No aspetta Il L'oratore No L'oratore Boh Io la butto lì Sia con il legamento Con saint Che con l'oratore C'è con osiride È morto Nella guerra rossa E c'entra Nella guerra rossa Lo spettro Di Dell'oratore Che in realtà Era uno spettro Che aveva accolto Ma non era il suo Era bianco Potrebbe essere L'oratore Però E dell'avanguardia Ti immagini Minchia Noi rendiamo L'oratore Un guardiano Vediamo un po' Il pezzo di lore Che dicevi tu In realtà Sulla torre È nominata La sala Dell'oratore Cioè È nominata Dall'alloggio Avrebbe anche senso Perché c'entra La guerra rossa Comunque Per cui Alla fine Allora Motore solitario Roba Roba Nella tranquillità La detta Ma Ma Eri Noru Io non so Che sia Quello Eh Servirebbe Mirko Mirko Magari lo sa Però io Sinceramente Non so Chi è Marinuru Chi? Senza contare Una trentina Di caduti In tal caso Che è strano Stiamo parlando Tipo di un assalto Per Di una missione Di recupero Magari Dovremmo salvare Qualcun altro Probabilmente Io ho pensato Subito A Cade Io ho pensato Subito A Cade Perché ho detto Boh Siccome mi ha riportato In vita lui Riportiamo in vita Anche Cade Bella raga Due al prezzo Di uno Allora Concentriamoci Quadrifoglio La sequenza è sempre La stessa O un'altra Kevin? No Un'altra Ah ok Io ne sto provando Un'altra ancora Allora Quella tomba Era inaccessibile Cioè Ci tippava indietro Usciva un quadrato E dei punti di domanda Ma erano usciti Ti tirava E io li ho raccolti Che poi Ti buttava indietro Era tipo Protetta Quella tomba Eh manca D'elpi Intanto Mi passo anch'io La linea oraria Cazzo Poi dopo Quello Doppio esagono Perché non c'è nessuno Qua Ma non c'è nessun nemico Va bene Serpente Quanta roba Che c'è qua dentro Di cui non sappiamo Bungie 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 le sequenze si trovano gli obelischi agli obelischi a per i suoi perk che ha non lo so è quello che si è e quanto pare cambiano ogni ora quindi sarebbe troppo prima delle otto verrà espulso sinceramente poi il serpente l'ho fatto una volta lo devo fare un'altra volta dove è serpente qua e poi dopo serpenti devo fare il più dov'è il più il più è qua erano tutti in ordine coincidenze? io non credo cioè lo spero oggi sono di quei rumori che risuonano è andato a mangiare Dalpy? no non ho sentito niente si si è andato a mangiare si ma di solito ci mette poco si non è buona scivolo della meridiana sulle streghe era di tornare alla meridiana questa farà questa da solo le pezzi di loro a casa ma no semmai no dai c'è qualcosa troppo misterioso e poi non avrebbero lasciato tutto questo mese vuoto ah ce n'è anche un altro e fra 26 minuti cammino e probabilmente vado a mangiare raga il poimento della verità non ce n'erà o no? vai bella raga vai dalpy via vedi da la speed rannato hanno trovato altre due combinazioni andiamo e cambiano ogni ora probabilmente per cui via no non ha funzionato niente oppure non bisogna leggerli in sto modo tu sei un pazzo a provare quei simboli che ti danno lì sotto mmm ok il primo aspetta che lo devo trovare non serve quindi uccidere i nemici possiamo partire da qua tu ci vabbè no vabbè il primo è il quadrifoglio ok qua davanti proviamo a non uccidere in caso ah si non penso che non c'entra niente a uccidere non uccidere spendici meno un attimo delpy eh kevin ancora delpy il mio si il tuo se dopo mi da un cioè ci da un altro trionfo mi viene da dire che ci sono 19 codici comunque si comunque doppio quadrifoglio doppio esagono il più il fiore e il serpente dove è il quadrifoglio qua ma nel in che senso cambiano ogni ora eh le sequenze in teoria cambiano ogni ora cioè ogni ora devi fare un codice si che però viene letto dagli obirischi da quello che risulta davvero credo l'esagono dove sono gli esagoni non l'avrei anche guardato di qua che smedio doppio esagono da me da me te lo guardi con la spada poi ancora i zagoni ok che dovrebbe essere di fronte di fronte si no cosa vuol dire il fiore vabbè adesso c'è il più cosa vuol dire il fiore quadrifoglio eh però quello lì l'aveva chiamato quadrifoglio eh il fiore magari è quello il diamante sembra in effetti un fiore alla fine dentro ci sono dei fiorellini ancora più no il fiore ah ok eh di fronte vai nooo avevamo il check al boss del giardino caso caso e poi eh serpente serpente eh destra destra adesso funziona si no mi è trovato dai chi riplas si stava due te tre ci ha fatto vediamo se ci riesce qualcosa oh deposito perduto nel tempo ancora e c'è la tomba di prima ci darà un pezzo di loro ci saranno i simboli su eh no è diverso c'era eccolo qua oh mio dio ragazzi 19 volte sta merda no adesso vai nella tomba niente ah la tomba per resettare torna in orbita si no no non resettaci no ma bisogna fare come fai oddio adesso però si erano attivati i sotti di diversi simboli questo vuol dire che dobbiamo lo so appunto che vanta 19 volte no è impossibile qui adesso ce ne ho tre di simboli ma quello lì non avevi detto che era già andato avanti un po' ci sarà una questa immagino cioè non è che può essere di esplorare i cosi del coso però i cosi del coso con i due del tempo esplorati quello lì che era andato avanti è arrivato alla tomba è tornato in orbita ed ha e ha cominciato a mettere gli altri codici quindi stiamo facendo anche noi oh dimmi quello che hai appena fatto perché mi ha voglia di cercare su reddit 50 euro oppure dimmi su reddit dove devo cercarli ma ditelo infatti cercate reddit redsecrets reddit due su diciannove porca di quella puttana però abbiamo fatto fardello parte 1 e fardello parte 2 Tyvee Lucis esce dalla linea degli alberi con sei anime e peso aspetta vede la luce di geppetto ballenare nel crepuscolo il suo spettro spettro volteggia e vibra nelle mani di un bambino che li accompagna nel distanza il chiaro di luna si diffonde nella valle dissipando il buio fra il calare del sole e l'asceso del satellite what the fuck marine happy in piedi composto una lunga canna dotata di ipode che adorava e vabbè non l'ho fatto in tempo a leggere stavo leggendo lo leggo dalla live ok fermi allora la roggiata proteggeva i fili d'erba sui suoi stivali si avvicina agli spettri scompaiono grazie marine Tyve parla a bassa voce riporge la mano con decisione marine annuisce e la stringe è stata un'idea di saint Ausinide non è caldo no no niente poveraccio ma come cacchio è che si leggono sti come è che si leggono sti i simboli scusami te lo ha detto lui guarda saint mette il saluto dei rifugiati li carica sulla portaerei ok hai trovato read the secrets si uno quello che ho fatto adesso è sul post di 55 minuti fa 55 minuti doing the patterns on the obelisk in the corridors ok mi piaccia è il comunque sono abbastanza convinto che non è saint te non è sì saint kade no no è il quarto commento non ho contato le risposte primo secondo terzo obelisk code for this hour si quello cos'è ex cos'è che è ex sarà l'esaco io lo immagino sì è l'esaco e dov'è che bisogna andare kevin aspetta stavo cercando di aiutare loro in più in più e a destra belli tutti i fanatici no sono one shot clover clover adesso provo provo a non uccidere i nemici a vedere se me lo conto uguale sì sì te lo conto uguale guarda c'è il quadro di foglio di fronte a sinistra ah il diamante di fronte di fronte ti lo mare te lo chiedo fatti ancora di avanti guardiamo a terra ok mi ha ucciso cos'è che mi ha ucciso cos'è hex esagono sono morti mi ha ucciso anche bene io sono di la raga io sono intrappolato non posso andare da nessuna parte no io sono in una stanza senza simboli simono ah si è intrappolato si torna indietro ah no velvi sono tornato all'inizio cosa mi ha troppo what the heck devi riuscire a venire da noi se riesci ma ero giusto ma che cazzo perché perché ti vedo qua arrivo qualcuno ci sta perdendo non voglio perdermi nel tempo e morire aiuto come senti esatto io ti vedo sopra di noi guarda sopra ma che caccia flower è il diamante con dentro le cose vero si no raga si è vagato torniamo in orbito di nuovo che palle però dio quanto tempo abbiamo 16 minuti e quindi tra 16 minuti c'è un altro codice un altro ancora c'è un altro ma porca di quella puttana aspetta magari non è magari uno che abbiamo già fatto figa del dio diavante pianta no è nuovo è nuovo sono davvero 19 codici da fare puttana di quella vacca probabilmente non cambieranno ogni ora si spera eh credo minchia 19 no raga non me l'ha dato perché non me l'ha dato quello che mi hai dato te Kevin ho saltato un simbolo bella l'ho tempo sfregato ti ho capito ti ho capito ti ho capito attenzione get good l'ho get good io mi metto la ultima solare skate io mi metto l'ampo per la raga verso dell'astrocito dov'è dov'è è pronto eh un attimo ma dieci minuti e fai dopolo eh dopo quando porco zinci iiii attenzioni ad el pittore è balzato a una velocità assurda minchia da non fare niente a spammarci codici da dire passiamo la settimana a non fare niente spammare codici su mercurio interessante ci avevo già passato troppo tempo per fare le armi dei vex e già non ci passavo tempo per farci le armi dei vex cioè senti salvo che cacchio me ne frega di fare i codici per avere la donna Kevin bello gli ho l'aleati migliori il verso della strugita quindi pattern quindi cos'è che era il secondo sì secondo di quei due nuovi che avevi trovato sperando che non si baghi sto giro andiamo allora c'era il più a destra verso verso della strugita cerchiamo di stare più vicini mica che magari poi si bagga perché siamo troppo lontani dall'altro il quadrifoglio l'arripe devi speedrunnare di più vai clover poi c'è di avanti di fronte di fronte ti dico devo andare a mangiare anch'io bella rai aspettiamo un attimo qua ci siamo poi un altro clover cosa che mi ha fatto adesso diamante giusto diamante ancora diamante è a sinistra avanti ok alle trappole mi ha preso infatti collatero esagono serpente serpente dall'altra parte sempre di fronte on the table snake on the table no era the pennies on the table si the pennies on the table esatto come gli esercii a scuola poi c'è ancora il diamante e poi il diamante due volte diamante si ci sono quattro diamante allora il codice era giusto quello che si vedeva sotto il primo perché c'erano tre volte il diamante sono quattro ah oh ho infrante i sogni di lollo più che quelli di del ahahah l'olого come la theory resto e pappa che allume l'oro che unico nick clip lì orto con il life o maIF agvelSi aspettata che abbiamo 0 naco dio bordi indip первon camping ma d Dai, ti prego, questo è l'ultimo, Snake Puoi tornare in orbit e vado a mangiare, ci sentiamo dopo Che palle figa No, è giusto, ma non Cioè, ci ha dato un altro pezzo di rover Oh, deposito perduto nel tempo Vado a far mangiare il moto veloce Vada, vada La cosa per la lì